Questa è diventata la nostra famiglia per chi frequenta questo bellissimo ambiente che abbiamo iniziato dal primo agosto e terminiamo quest'anno portando questa Juniores nelle finali regionali. Siamo arrivati vincendo il nostro girone e abbiamo perso l'ultima partita in finale con l'Imperia e comunque questo dimostra che in questa società i valori sono veramente nel far crescere i ragazzi e lavorare proprio per portarli fuori da alcuni ambienti che potrebbero essere difficili oltre che sono la strada e quando ci sono dei problemi perché la scuola oggigiorno prende tantissimo noi allenatori ci mettiamo a disposizione a lavorare con loro e portarli se si riesce come quest'anno a queste finali sono soddisfazione.